Bagnato per essere registrato. Mercato del centrocampo Milano non si ferma e. Oltre al tentativo inserire l'accordo frattese con il denaro tonale. C'è interesse per due giocatori Reivenders-Alkmar. Che gavete ok anche al trasferimento Sembeuche ma a Bologna e Musa del Valencia. Tiani Reinders è figlio dell'arte. Suo padre era un attaccante e lo ha chiamato in onore Babangida. Attaccante nigeriano ex Ajax. Il centrocampista nato nel 1998 potrebbe intraprendere la stessa strada. Da AZA 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 Italia. Dite un Coop Miners. Che prestò servizio ad Atalanta e un. Reinders sarebbe entusiasta. La valutazione è tutta per i rossoneri che devono ancora collegare i contatti con gli olandesi per. Imbarcarsi. Più avanti sui discorsi per. Gli Stati Uniti ma. Del Valencia e anche la possibilità di sbarco. Considerando che il tonali è vicino alla vendita a Newcastle. E che Ben Nasser ha già terminato il suo. Calcio del 2023 a causa del grave infortunio risolto nella semifinale della Champions League.